Andiamo a Siderno invece con Catalano, primo protagonista della gara del Raciti, Siderno Bocale, al venticinquesimo invece tedesco, poi iniziava in tre minuti lo Zerbi Show, una prima azione, lo vedeva protagonista solitario, poi una conclusione dalla distanza ed ancora quattrone a cercarlo invece. Poi ancora Zerbi prima di vedere il neoacquisto all'opera, Tripodi, ma con Tripodi siamo già al secondo tempo e c'è questa conclusione dalla distanza. Ancora il Siderno prima di vedere invece la performance personale di Romeo ad impegnare il portiere del Bocale. Il gol di Saviano sbloccava questo risultato, ancora Siderno con palla alta ed ancora Siderno con diverse collaborazioni, lo vedremo tra poco quella per esempio tra De Leo e Zerbi, ma soprattutto questa vi facciamo vedere tra breve perché sarà poi quella che sancirà anche un calcio di rigore, calcio di rigore che batterà Fuda ma troverà la parata del numero uno del Bocale. Peraltro Fuda a breve sarà poi anche espulso. Si continua con queste azioni, si continua con questo intervento di Fuda su Saviano e da lì l'espulsione del giocatore del Siderno. Matiot dalla distanza ma a trovare il 2-0. Era solamente Artuso con questa conclusione, con questa costruzione anziché partiva da metà campo sul filo del fuorigioco. Vediamo se la regia ce lo fa rivedere oltre l'esultanza di Artuso che torna al gol.